Ancora cumuli di rifiuti, mini discariche abusive ed ingombranti. Al rientro dalle vacanze la situazione a Torre del Greco non sembra cambiata. La città si presenta sempre sporca, sia in centro che in periferia. Come testimoniano le immagini delle nostre telecamere di questa mattina, restano criticità e disagi, soprattutto in alcune zone. I cumuli, mal differenziati e non raccolti, e gli ingombranti non mancano mai infatti alle spalle di Palazzo Baronale, come nei pressi del Comando di Polizia Municipale e dello storico sito delle Cento Fontane. Situazione analoga anche all'angolo tra via Circonvallazione e via Cappuccini, a primo e secondo Vico a Bolitomonte, senza dimenticare lo scempio di via Pezzentelle degli ultimi giorni, con precarie condizioni igienico-sanitarie. Ancora caos e disservizi dunque nella quarta città della Campania, a poche settimane dalle elezioni regionali. Cresce la rabbia e l'indignazione dei cittadini che continuano a fare segnalazioni e denunce. Ma quella dei rifiuti è un'annosa questione che sembra non trovare mai soluzione.